Si acuisce la controversia tra le amministrazioni di Acquapese e Guardia Piemontese e la società Sateca che gestisce le terme luigiane, il dato emerso nel corso di un incontro con i dipendenti. Attraverso i suoi avvocati, Ivan Incardona ed Enzo Paolini, l'azienda ha illustrato la propria posizione sui motivi dell'interruzione delle trattative con i comuni e le drammatiche prospettive che si delineano per l'imminente e le prossime stagioni. Il servizio che un'istituzione deve svolgere anche quando è concessionaria di un bene pubblico come le acque termali è un servizio rivolto alla comunità, quindi alla propria comunità, ai lavoratori, ai dipendenti, ai cittadini che poi usufruiscono di questo servizio e che naturalmente deve sposarsi con l'esigenza imprenditoriale di garantire un servizio fino al subentro di un altro soggetto regolarmente individuato attraverso le procedure di legge. I comuni invece hanno ritenuto che questa individuazione non sia necessaria e che il servizio debba cessare. Numerosi interventi hanno auspicato la soluzione delle controversie anche stimolando una crescente mobilitazione degli oltre 200 lavoratori che vedono gravemente minacciato il loro futuro. Siamo preoccupatissimi, abbiamo chiesto un incontro in prefettura, la prefettura in queste ore ci ha garantito una convocazione, lì ribadiremo le nostre preoccupazioni. Credo che la chiusura e l'ipotizzata ormai chiusura delle terme, se le cose non cambiano, va a incidere sull'economia del territorio. L'incontro si è concluso con l'intervento di Dante Ferrari, amministratore delegato della Sateca, che ha spiegato come la questione relativa alla subconcessione insieme alla crisi innescata dal Covid e dal taglio del budget lo scorso anno facciano intravedere un futuro sempre più nero e un serio rischio per la prossima stagione. Come lavoratori siamo assolutamente consapevoli di non poter trovare una ricollocazione, quantomeno tutti e 250, con soluzioni diverse che non consentono all'azienda, che attualmente garantisce il nostro posto di lavoro, di riassumerci.